Buon di buona gente, sono Luigi in Artelusio e benvenuti a questa nuova video recensione. Terzo appuntamento sulle mie letture di stampo nipponico e oggi vi parlo di un romanzo che per il momento è quello che mi è piaciuto di più. Poi mi resta ancora l'ultimo da leggere che inizierò a leggere tra poco. Voglio prima stabilizzarmi un attimo con le mie letture attuali prima di iniziare perché ho bisogno di avere veramente un po' sgombra. Comunque fino ad ora questo è quello che mi è piaciuto molto di più. Non è proprio questo granché, magari forse ero io che mi aspettavo un po' di più, però dai ci può stare. È un libro che sa intrattenere, ma prima ancora che io spari i giudizi di cosa sto parlando. Ecco qua, La ragazza del Kyushu di Matsumoto Seicho o Seiko, non mi ricordo mai come si pronuncia. Allora, di cosa parla questo romanzo? Allora, c'è questa ragazza, un altro poco potevo mettere c'era una volta, ok, questa ragazza del Kyushu, una regione del Giappone, di nome Kiriko, che va a Tokyo per chiedere l'assistenza giuridica di Otsuka, uno dei migliori avvocati presenti sulla piazza, perché lei ha bisogno del suo aiuto affinché lui difenda suo fratello, che è stato accusato dell'omicidio di una anziana usuraia con la quale lui aveva contratto un debito. Si sente già odori di delitto e castigo di Dostoievski, vabbè. Anche se però la ragazza ammette che non ha molto per pagare l'avvocato, ma gli chiede, per un senso di giustizia, di aiutarla comunque, lei in cambio le avrebbe dato tutti quei pochi soldi che aveva. Purtroppo però, in questo frangente, l'avvocato Otsuka c'è altro a cui pensare, in altre parole deve andare a dilettarsi con la sua amante e non vuole perdere tempo, per cui non sentendo nemmeno la povera Kiriko, la congeda dicendole, guardi, lei non potrebbe permettersela, la mia parcella è troppo alta, chieda a un avvocato d'ufficio che sono altrettanto bravi quanto me. Kiriko se la lega al dito perché è convinta che lui abbia rifiutato il lavoro unicamente per una questione economica e nonostante lo preghi e si disperi, alla fine è costretta ad arrendersi. Suo fratello alla fine verrà condannato, ma non verrà giustiziato perché morirà in carcere e dopo di ciò Kiriko, ormai ridotta in miseria, avrà come unico intento quello di vendicarsi. E qui mi fermo, anche perché il romanzo è molto breve, si legge in un niente, io però ho preferito leggermelo con molta calma, dosarmi la lettura, godermela e devo dire sono molto contento di averlo fatto. Forse anche perché penso che se l'avessi letto troppo non mi avrebbe lasciato molto. Allora, a sentirlo, a leggere la nota di introduttiva, la presentazione del libro, pensavo, ero partito con queste premesse, pensavo che mi sarei trovato a leggere una revenge novel, un romanzo puntato alla vendetta, una sorta di Lady Snowblood, per chi non lo sapesse Lady Snowblood è un film, è un revenge movie giapponese degli anni 70-80, non vorrei sbagliare, la cui protagonista è questa ragazza, appunto Lady Snowblood, che per vendicare il massacro della sua famiglia, dedica tutta la sua giovinezza, fin da quando è piccola, ad allenarsi per diventare una vera e propria macchina della morte, una serial killer professionista, e dedica il resto della sua vita a cercare le persone che hanno massacrato la sua famiglia per ucciderli e vendicarsi. Da questo film poi è stato tratto anche un manga, appunto Lady Snowblood, che non ho capito bene perché non ho avuto modo di leggerlo purtroppo, se non ricordo male è stato pubblicato dalla J-Pop, perché ultimamente la J-Pop sta ristampando un sacco di bei prodotti, comunque qualora dovessi trovare il link, se siete il link Amazon, se siete interessati, oltre al link di questo romanzo vi lascerò anche il link al manga Lady Snowblood. Quindi ha ispirato un manga e la figura della protagonista ha ispirato anche il personaggio di Lucy Liu nel film Kill Bill, tant'è che nella scena del combattimento tra Lucy Liu e Uma Thurman viene messa in sottofondo la colonna sonora, la canzone giapponese proprio del film Lady Snowblood. Ok, tutta questa premessa solo per dire che io mi aspettavo quando avevo letto, perché se andate a leggere la nota di trama vi dice già chiaramente tutto quello che vi ho raccontato io, ovvero l'introduzione, Kiriko con l'avvocato, l'avvocato che rifiuta, il fratello di lei che muore in carcere e lei che decide di vendicarsi. Però, aspettate, no, questo è un dettaglio tecnico che vi dirò dopo. Allora, devo dire, a leggere questa trama io mi aspettavo appunto una cosa molto in stile Lady Snowblood, quindi mi aspettavo questa una ragazza con il kimono che si fa strada in mezzo ad arti tagliati con una katana per vendicare la morte di suo fratello, uccidendo tutti quelli che ne sono stati la causa volontaria e involontaria. Non è così. Però la vendetta c'è, penso sia stata anche molto più oscura, molto più cattiva, molto più nera, molto più brutta di quanto io mi aspettassi, perché sì, ok, vedere qualcuno che si vendica uccidendo, ok, siamo tutti bravi a immaginarcelo, ma vedere questo tipo di vendetta, mamma mia, cioè ci vuole una spietatezza secondo me incredibile. E pure per questo devo dire che mi è piaciuto molto, soprattutto per quanto riguarda la costruzione dei personaggi, anche perché di base i personaggi principali su cui l'autore si concentra maggiormente sono pochissimi. Lui spazia tranquillamente da un punto viúva all'altro, anche nello stesso capitolo, senza farsi troppi problemi. E quindi abbiamo il punto di vista di Kiriko, il punto di vista dell'avvocato Otsuka, il punto di vista di Abe, un giornalista che si interessa alla storia di Kiriko, anche se purtroppo lui finisce un po' troppo per isolarsi, il che è dispiaciuto. È un personaggio che prometteva molto, ma vabbè, dettagli. Quindi di base poi non saprei bene come etichettarlo questo romanzo, perché io non lo definirei nemmeno tanto una revenge novel, un romanzo sulla vendetta. E non saprei nemmeno se definirlo un giallo, perché alla fine la questione del mistero, dello scoprire chi è l'assassino, che viene trattata, però viene trattata in maniera molto... molto raffazzonata. Devo dire, che questa è una parte, forse l'unica parte del romanzo che ho bocciato, perché qua il giallo, che è più un giallo giuridico, tipo alla Law and Order, per farvi capire, è risultato parecchio semplicistico. Infatti la persona, in questo caso l'avvocato Otsuka, che medita sugli accadimenti del crimine e alla fine in poche righe, dopo aver soltanto letto i verbali, fa 2 più 2 e risolve tutto il caso con la certezza matematica di uno Sherlock Holmes, mi è sembrato abbastanza irrealistico, complice anche la velocità con cui si svolgono i fatti. E devo dire, quindi non saprei nemmeno... non potrei definirlo nemmeno un giallo, perché il giallo alla fine non occupa poi tutto questo spazio. E nemmeno tanto un thriller, perché non è che ci sia molta tensione, forse solo nelle ultime pagine c'è un po' più di tensione, ma io lo definirei più che altro un romanzo noir, anche perché paradossalmente la maggior parte degli eventi che si svolgono in questo romanzo, per buona parte si svolgono quasi sempre di sera. È soltanto all'inizio che magari vediamo un po' qualche scenario alla luce, ma per il resto si svolge tutto quanto di notte, col buio, di sera, è sempre così. E comunque anche quando non viene specificata la durata temporale, lo stile ti fa pensare proprio, ti dà una sensazione di oscurità, di nero, di buio, di oppressione quasi, anche perché magari si svolgono in stanze più chiuse o in locali con illuminazione artificiale che quindi ti fanno pensare automaticamente che fuori ci deve essere per forza il buio. Anche da un punto di vista dell'atmosfera, quindi è molto d'impatto. Poi, un dettaglio importante, è molto interessante per quanto riguarda lo spaccato che dà l'autore sul mondo delle geisce. In questo romanzo non viene mai nominata la parola geisha, si parla principalmente e giusto due o tre volte di intrattenitrici. Però già da quando compaiono in scena queste ragazze che lavorano in questo locale, ma non come cameriere, semplicemente si siedono accanto alle persone che entrano, ci chiacchierano, ridono, scherzano, gli offrono da bere, si fanno offrire da bere e quant'altro, capiamo che ovviamente sono delle geisce. E devo dire interessante vedere le geisce raccontate dal punto di vista proprio di un autore giapponese, quindi uno che è abituato a questa figura della cultura giapponese, cosa che noi occidentali invece non siamo abituati. Noi per lo più ci formiamo sul classico memoria di una geisha, che ci dà comunque la visione della geisha molto romanzata e non molto attinente con la realtà. Infatti c'è ancora chi pensa che la geisha sia un'intrattenitrice più a triple X, diciamo. In realtà non è affatto così e chiunque ve lo farebbe capire in un attimo perché c'è una differenza sostanziale. Uno può subito capire che differenza passi tra una geisha e una prostituta, semplicemente dal modo in cui si vestono. Le geisce hanno il kimono normale con la cintura con il nodo dietro la schiena, mentre le prostitute, per una comodità ovviamente lavorativa, il nodo della cintura sul kimono ce l'hanno davanti, così è più facile all'occorrenza scioglierselo. Bene, ok, però non devo fare qui un excursus sulla figura della geisha. Magari quando un giorno leggerò Memorie di una geisha, perché sì, devo ancora leggerlo in tutto questo il romanzo, ne farò magari un video a parte e ne parlerò più ampiamente della geisha. E devo dire, è molto interessante perché vedere per una volta la figura della geisha trattata esattamente come è. Poi, devo dire, il messaggio finale poi di base mi ha lasciato veramente spiazzato, infatti perché, come avrete capito, il tema portante di questo romanzo è la vendetta. E uno può pensare magari che uno degli intenti di Kiriko sia quella anche di ripulire l'onta che ha colpito il fratello. Ricordiamoci che nel Giappone hanno un senso della dignità, della dignità, hanno un senso dell'onore che è molto più ampio rispetto a come lo abbiamo noi occidentali. Ecco, uno penserebbe magari che Kiriko voglia anche scoprire chi è veramente l'assassino che ha commesso l'omicidio di cui suo fratello è stato accusato. E verso il finale, quando si scoprono un po' tutti gli altarini e si capisce anche chi è l'assassino, capiamo però che alla fine non conta scoprire il vero assassino e fare giustizia, ma ciò che conta e ciò che soprattutto importa la protagonista è semplicemente vendicarsi nei confronti di chi non ha fatto niente per salvare un innocente, anche se questo significa lasciare a piede libero un criminale e un assassino. E da questo punto di vista, anche da alcune parole che vengono messe in bocca a Kiriko, sembra che l'autore avesse in mente una vera e propria denuncia sociale. Ora, io non me ne intendo molto di giurisprudenza, non so come funzioni la giustizia in Giappone, so però bene o male come funziona la giustizia qui da noi in Italia o nel resto del mondo occidentale, per capire che magari veramente chi ha pochi mezzi alle volte viene lasciato a se stesso, viene costretto ad affidarsi ad avvocati che magari o sono alle prime esperienze o sono avvocati d'ufficio, mentre invece chi ha abbastanza risorse economiche, chi è più ricco può contare sull'appoggio di avvocati molto più esperti, che si fanno pagare quindi molto più profumatamente, e di conseguenza è più facile per un ricco scampare alla giustizia piuttosto che un povero di ottenere giustizia, eccetera. E questo è un po' il senso che mi ha dato, anche se alla fine però capiamo che l'avvocato Otsuka non è un avvocato in questo senso, non è uno che pensa alla parcella, però nonostante anche lui venga ampiamente approfondito, capiamo un po' anche le sue ragioni, il modo in cui lui vive il fatto di aver lasciato che un innocente morisse in carcere, vediamo un po' come lui vive questa situazione, ma non riusciamo alla fine, io ad esempio non sono riuscito a trovare un lato positivo perché lui comunque se agisce, lui pure agisce per un proprio fine egoistico, per un proprio senso dell'egoismo, lui è molto concentrato su se stesso, sulla sua relazione extraconiugale, ed è questo che diciamo lo spinge a commettere l'errore che metterà in moto tutti gli eventi successivi. Tanto che alla fine arrivi alla fine del romanzo e anche se rimani sconvolto un poco dalla cattiveria di questa vendetta, arrivi a pensare diciamo che magari io non avrei saputo fare di meglio, io avrei voluto fare esattamente la stessa identica cosa, ti lascia un po' quel senso di soddisfazione colpevole che magari avverti quando arrivi al finale del film Dogville di Lars von Trier, quando vedi che viene compiuta la vendetta sulle persone che hanno oppresso la vittima, vittima che alla fine può vendicarsi, ma che si vendica alla fine in una maniera forse troppo sproporzionata, quindi da una parte sei contento per la vendetta ottenuta che ti lascia soddisfatto, ma dall'altro rimani comunque disgustato un poco da com'è la natura umana, da come è facilmente oscuro l'animo umano, oscurità alla quale nemmeno tu lettore sei consapevole di riuscire a scampare perché tu comunque sei il primo che rimane molto soddisfatto nel leggere gli effetti di questa vendetta. Ebbene devo dire, è un romanzo che io consiglio e che è sicuramente da leggere, è breve alla fine, in questo ebook è di sole 154 pagine, in cartaceo saranno 200 ma si legge veramente in maniera tranquilla, è molto rilassante, ti lascia molto, ti fa molto riflettere e diciamo spinge a fare un po' di autoanalisi, io infatti mi sono molto autoanalizzato su questo punto di vista, su come io mi sono approcciato al senso della vendetta mentre leggevo, quindi io ve lo consiglio, non vi aspettate però eclatanti colpi di scena o effetti in stile manga o anime o film giapponese, ecco, è molto molto sobrio, qualcuno direbbe anche arido, gelido, freddo, arido, forse perché mancano, non ci sono quasi momenti di, diciamo di hype enorme se escludiamo il finale. Devo dire, mi ha fatto pensare un poco al cinema francese, il cinema francese che è molto atipico e molto sobrio nei suoi generi, ad esempio se un giallo, un film francese giallo non è mai giallo come lo intendiamo noi ma che so è un giallo psicologico o anche se pensiamo ad esempio al film Grazie per la Cioccolata o anche un giallo tragicomico se pensiamo sempre al film francese, otto donne è un mistero. È molto atipico, per questo pure ho delle difficoltà a incastrarlo in un determinato genere, comunque ve lo consiglio caldamente e con questo chiudo il terzo libro dei quattro romanzi in stile giapponese che portavamo nel club letterario per il mese di ottobre, sì ho detto bene, di ottobre e adesso mi resta soltanto l'ultimo romanzo che ho lasciato per ultimo perché è quello un po' più lungo e non l'ho ancora iniziato e vedrò, voglio iniziarlo con più calma e più tranquillità nel mentre andrò avanti con ulteriori letture, con le mie lezioni di storia eccetera eccetera. Per cui ragazzi il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, lasciatemi un like se così è stato, commentate e ditemi la vostra se conoscevate questa storia, se avete letto questo romanzo oppure no, ditemi che ne avete pensato nel caso che lo abbiate letto, che lo abbiate già letto, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina facebook, seguitemi anche su instagram sempre se volete e noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao!